Oggi colpo di scena perché trasmetteremo da un posto nuovo, un posto magico, un posto al quale il Broski è particolarmente affezionato, un po' come per Batman la Batcaverna. Questo posto da oltre 40 anni custodisce idee ed è stata promotore di eventi enormi. Ma in questo posto custodisco anche le opere d'arte più enormi che possiedo, graffiti di oltre 4 metri, ma anche oggetti di design unici. In questo posto ho anche un collaboratore e non è il Broschino. Il problema è che è timidissimo. E tra i mille segreti che custodisce questo posto ci sono anche le opere d'arte eseguite dal Broschi e non sono graffiti. Piuttosto le definirei allucinazioni mentali. E questo posto è in grado di tirarti fuori tutte le personalità che hai dentro. Quindi se sei curioso fammi sapere se vuoi vedere il posto che è pieno di polvere. Se vuoi vedere le opere d'arte enormi. Se vuoi entrare nel cervello del Broschi. O se vuoi conoscere Pinoschi. Bella da Broschi.